Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City, prima persona vaccinata nel Regno Unito, anche Mattarella fa sapere che si sottoporrà al vaccino ed è chiara la sua intenzione di sensibilizzare i cittadini. Torniamo a Torre del Greco dove aumentano le guarigioni, situazione analoga anche negli altri comuni del Vesuviano, poi la scuola oggi ad Ercolano, porte aperte per l'infanzia e le prime due classi della primaria, ma non mancano le preoccupazioni dei genitori. Cambiamo argomento, Torre del Greco, mini discariche e strade sporche, complice anche il maltempo di questi giorni. Restiamo in tema, a causa delle piogge nuovamente danneggiata la passeggiata Porto Scala, questo e molto altro. Guardiamo i servizi. E' il miglior regalo di compleanno anticipato. Questa è l'emozione di Margaret Keenan, la novantenne nordillantese a cui è stato sottoposto il vaccino prodotto dalla Pfizer. Un primato mondiale che inaugura la tornata vaccinale partita nel Regno Unito. La stessa regina Elisabetta, 94enne, insieme al principe Filippo, che di anni ne ha 99, riceverà il vaccino il prima possibile, in quanto fascia il rischio vista la sua veneranda età. A sottoposte al vaccino sarà anche il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Quest'ultimo si farà somministrare il vaccino non appena possibile, senza ovviamente scavalcare l'ordine delle priorità delle categorie a rischio. L'annuncio del Capo dello Stato ha un forte valore simbolico ed è chiara la sua intenzione di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di vaccinarsi. Dagli Stati Uniti arriva la prima luce verde al tanto famigerato farmaco anticovid della Pfizer-BioNTech. Il prodotto è efficace e sicuro, ha rilevato in un rapporto postato online la FDA. La mala riunione, in cui la stessa dovrebbe dare il via alla somministrazione del siero, è prevista in settimana. Inoltre, numerosi personaggi influenti, a partire dal neoletto governatore Joe Biden, passando per gli ex inquilini della Casa Bianca Obama, Bush e Clinton, hanno dichiarato la volontà di sottoporsi all'iniezione del farmaco. Novità anche dagli Emirati Arabi, dove è stato registrato il vaccino sperimentale della cinese Sinopharm, la cui efficacia si è attestata all'86% contro il Covid-19, in base a un'analisi provvisore dei test di fase 3 iniziati a luglio. A Torre del Greco, numerose le guarigioni registrate nella giornata dell'Immacolata. Sono 36 nuovi guariti e 10 soggetti risultati positivi al Covid-19. Il dato che attesta il trend di diminuzione dei casi nella città, sono attualmente 628 positivi, di cui 27 ricoverati, 1518 guariti e 48 decessi. Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto, annuncia una discesa della curva di contagio. Al momento si riscontrano 602 positivi, in virtù dei 124 guariti e 28 casi positivi negli ultimi giorni. Il primo cittadino ci tiene però a lasciare un messaggio alla popolazione di Ercolano. Non bisogna abbassare assolutamente la guardia, tantomeno lasciarsi andare a facile entusiasmi. Dobbiamo continuare a combattere la nostra battaglia contro questo virus, in attesa del vaccino, che appare giorno dopo giorno un orizzonte più vicino. Sono 22 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri. 5 di essi presentano i sintomi lievi della malattia. Tra i nuovi contagiati c'è un bambino di 7 anni, uno di 11 e uno di un anno. Contagiato anche un novantenne. Dichiarate inoltre 26 persone guarite dal virus. Dati che continuano a preoccupare la città, che conta 1.556 tuttora positivi, 954 guariti e 27 deceduti. Situazione che fa sperare il sindaco di Bosco Reale, Antonio Diplomatico, che annuncia i dati del contagio nella città. La situazione attuale si conferma il miglioramento, con un buon numero di guariti, pari a 321, su 535 cittadini risultati positivi. I tamponi effettuati in questo stesso periodo sono stati 3.495 ed aggiunge, ci sono stati altresì comunicati 8 decessi a causa del Covid, ed è alle loro famiglie che rivolgiamo le condoglianze da parte di tutta l'amministrazione. A Dercolano da oggi aperte le porte delle scuole dell'infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, ma i genitori, ancora fortemente preoccupati dalla situazione epidemiologica territoriale, scelgono di lasciare i bambini a casa. A Torre del Greco, invece, la linea precauzionale di cautela, scelta dal primo cittadino Giovanni Palomba, vede ancora i bambini impegnati nelle lezioni a distanza. Un'apertura amara commenta il prese dell'istituto Giulio Rodinò di Ercolano Velio Scarane, che conta questa mattina presenti in aula 17 studenti su oltre 300. Parliamo veramente di poche decine per ogni scuola. È un dato che noi abbiamo preso come un segnale forte, la frequenza che avrebbe dovuto prevedere tra scuola dell'infanzia, prima e seconda scuola della primaria, avrebbe dovuto prevedere circa 300 alunni, ci troviamo con 17. Procedono invece ancora in lezioni online le classi delle scuole di Torre del Greco. Facciamo il punto della situazione con la maestra Rossella Ascione dell'istituto Pie Filippini. Ci troviamo all'inizio di un anno scolastico particolare per questi bambini di prima classe prima. Essendo piccoli non sono del tutto autonomi e quindi hanno bisogno comunque della presenza di un genitore in dad. Ovviamente parliamo di bambini che devono imparare a leggere, a scrivere, a contare e queste attitudini all'inizio anno sono state interrotte. Il peso maggiore ce l'hanno sicuramente i nostri bambini di prima e anche di seconda, effettivamente, perché comunque, per non parlare poi della scuola dell'infanzia, quindi è una didattica che non è didattica, non si può chiamare didattica in questo senso. Veramente la scuola ha investito tanto e talparle leali a nemmeno un mese di inizio anno scolastico, ripeto, è stato uno shock perché pensavamo veramente di poter proseguire così, visto che comunque le scuole, ripeto, penso sia la mia che anche quella del dirigente, sono ovviamente preparate per questa situazione, sono sicure e è un ambiente che viene sanificato costantemente e sono veramente scioccata dal fatto che purtroppo non abbiamo riaperto anche per questi dieci giorni. Le strade di Torre del Greco continuano ad essere sporcate ai rifiuti. Le piogge degli ultimi giorni mostrano sempre più una città sporca, con immondizia di tutti i tipi trascinata dall'acqua per le strade. Apparentemente le vie del centro sembrano pulite, salvo quanto trasportato dal maltempo, ma se l'attenzione si sposta dalle vie principali anche solo di pochi metri tutto cambia. I soliti cumuli di immondizia depositata illegalmente o non raccolta vengono a formarsi ai bordi delle strade. Uno di questi è in bella vista in una traversa di via Vittorio Veneto, proprio a fianco all'ufficio postale. In alcuni tratti, come in via Tironcellio sotto il ponte di via Marconi, vengono a formarsi vere e proprie discariche, con tanto ai materassi abbandonati ed altri tipi di rifiuti ingombranti. Più ci si allontana dal centro, più la prospettiva peggiora. Mini discariche sono sorte in zona Porto e in tutta l'area di Corso Garibaldi. Così, mentre la città viene addobbata per le feste, si corre il rischio di non poter guardare le luci di Natale senza inciampare in qualche sacchetto. La passeggiata a Porto Scala, nuovamente devastata dalle intemperie del maltempo. I temporali di questi giorni hanno creato danni in tutto il napoletano. Non da meno la città di Torre del Greco, dove da giorni si concentrano piogge, talvolta forti e accompagnate dal vento. Nuovamente sotto l'occhio del ciclone è la passerella riservata alla passeggiata nella zona Porto Scala. La forza delle onde è danneggiata il viale pedonale, martoriato ogni qualvolta si abbattono fenomeni meteorologici sostenuti. Pietruzze e massi costeggiano la strada a pochi passi dalla scogliera, dove anche in queste ore si stanno infragendo le onde alte. In molti tratti la ghiaia che crea il manto della passeggiata è sprofondata, lasciando visibile la struttura in acciaio. Intorno alla grata si sono formate buche molto profonde, in cui chiunque potrebbe inciampare o sprofondare. Si tratta di un evento ormai tristemente consueto e che si è verificato anche in altre occasioni. Una situazione che richiede delle giuste contromisure, per evitare che vengano a crearsi situazioni di pericolo anche per i più piccoli. Le giostre installate nel largo adiacente alla passeggiata, infatti, potrebbero costituire un pericolo di non poco conto anche per i bambini. 8.4. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro Tg.